Domenica si celebra il giubileo delle confraternite per le diocesi di Albenga Imperia e per quella di Ventimiglia Sanremo. La chiesa giubilare per l'intera giornata per questa occasione la collegiata di San Giovanni Battista Imperio Neglia. Alle 15.30 partirà la processione da piazza Ulisse Calvi davanti alla chiesa dell'Annunziata per raggiungere piazza San Giovanni. Nel corso della processione le confraternite di Ceriana proporranno canti quaresimali. Nella collegiata la messa sarà celebrata dal vescovo coadiutore Monsignor Guglielmo Borghetti e il coro sarà coordinato dalla confraternite di San Pietro di Porto Maurizio.